Ora usare le carte di pagamento conviene, e tanto! Con l'extra cashback di Natale, la prima misura del piano Italia cashless, dall'8 dicembre se fai almeno 10 pagamenti con carta ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro in un solo mese. Usala sempre nei supermercati e nei negozi, ma anche con l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti. Per partecipare abilita le tue carte sull'app Io. Per registrarti sull'app usa la tua carta di identità elettronica o speed. Scopri come su cashlessitalia.it e dal 2021 partecipi anche alla lotteria degli scontrini. Usa le carte, guadagni, vinci e cambi il paese.